Buonasera a tutti e a tutte da Andrea Cartotto. Vediamo questa sera un esempio di una semplice lezione improntata al tema chiave della cittadinanza digitale dell'educazione civica. Come possiamo educare i nostri allievi ad un utilizzo consapevole di internet mostrando loro ad esempio i Google Trends. Che cosa sono i Google Trends? Allora intanto parliamo di un sito internet, trends.google.it Un'attività semplice semplice che possiamo svolgere in presenza in Dada o in DD. Apriamo il sito con i Google Trends e poi guardate come è utile questa attività soprattutto in questa fase dell'anno. Io clicco in alto a sinistra sui tre trattini e poi clicco su un anno di ricerche. Ogni anno Google, grosso modo tra il 31 dicembre e il primo gennaio, pubblica un anno di ricerche seguito poi dall'anno di riferimento. Troviamo sempre un video, che è questo qui con il tasto play, di qualche minuto in cui in formato video vediamo le immagini a mo' di carrellata più toccanti o virali che hanno interessato l'intero anno, ma soprattutto sotto scopriamo gli argomenti di tendenza del 2020. Cosa è stato ricercato in Italia nel 2020 sul motore di ricerca? Con quali parole chiave? Eccole qui, parole, persone, gli ad, ci sono diverse categorie, coltivare, come fare, cosa significa, fai da te eventi. Ecco, mostriamo ai ragazzi che internet si nutre delle informazioni che noi stessi inseriamo e richiediamo. Quelle che si chiamano in gergo le, se è singola, la query di ricerca. Io digito delle parole chiave e Google, ed anzi la rete, che è neutrale per definizione, mi restituisce dei risultati. Che cosa accade? Che Google, motore di ricerca, questo è importantissimo, non restituisce dei risultati ottimali per pertinenza, ma ce li restituisce per popolarità. Che cosa vuole dire questo? Che quando noi effettuiamo una ricerca, Google ci mostra al risultato 1 di pagina 1, probabilmente è il risultato più popolare o più ricercato, non quello più coerente con la nostra ricerca. Ed ecco quindi l'importanza di effettuare bene la cosiddetta ricerca attiva delle fonti. Accostare le giuste parole, porre le giuste domande per ottenere le giuste risposte. Ecco la chiave per un uso consapevole della rete. Vedete bene che noi qui poi possiamo coinvolgere i ragazzi in un dibattito, possiamo cliccare ad esempio su Italia e mostrare, ma a livello globale, che cosa invece è stato ricercato in rete? Nel mondo. Naturalmente coronavirus è al primo posto, oserei dire, e ne sono quasi certo in qualsiasi paese, oltre che su scala globale. Mentre le altre categorie cambiano sempre in funzione delle ricerche effettuate in un dato paese. Possiamo anche, inserendo un termine in Esplora gli argomenti, vedere un dato termine che tipo di popolarità e di seguito abbia avuto in rete. Se io digito COVID e premo invio, o COVID-19, Esplora, vedete? Io osservo una curva, la cosiddetta linea di tendenza, e io verifico questa curva come si sia articolata in tutto il mondo oppure in alcuni paesi. Andiamo a vedere, per esempio, scegliamo come riferimento temporale geografico l'Italia. Scorro, scorro, scorro. In Italia, negli ultimi 12 mesi, all'interno di tutte le categorie e tramite la ricerca di Google, qual è stato l'interesse di ricerca, la curva di tendenza sul termine COVID nel tempo. Ed ecco qui scopriamo che nel nostro paese, tutte le regioni considerate, abbiamo diverse gradazioni di blu dove il colore più scuro indica il maggiore interesse nella chiave di ricerca e vedete che noi osserviamo come il termine COVID, palesemente, sia stato ricercato trasversalmente in tutta l'Italia. Poi da COVID discende l'argomento correlato, ad esempio sintomo, vaccino, eccetera, eccetera. Ecco, questa attività è molto interessante e si può fare con le debite modulazioni dalla primaria sino alla secondaria di secondo grado proprio per spiegare ai ragazzi l'importanza delle parole, il concetto di neutralità della rete e il tema delle parole e il tema delle parole chiave. Con una chiave apro una porta, dunque è importante scegliere la chiave in funzione del tipo di porta che andrò ad aprire ed ecco il tema chiave della rete identificato per diverse tipologie di destinatari. Poi, se vogliamo anche proporre un decalogo semplice, quindi un insieme di regole da rispettare e da condividere per un uso consapevole della rete, ecco che ho il piacere di proporvi il mio Galateo di Mr. Internet, quello di cui io sono il papà, insomma, è un progetto nazionale di educazione civica digitale di cui sono molto orgoglioso che attraversa il nostro stivale che gode dei prestigiosi patrocini che vedete tra cui Unicef, la Regione Liguria con il marchio Scuola Digitale Liguria e la Community di Progetto, genitori digitali, il club per l'UNESCO in Liguria, Fondazione Franchi, eccetera, eccetera. Insomma, ho riassunto in forma poi personalizzata per fascia di età i dieci punti che noi possiamo, come ho sottotitolato, rispettare, mettere in pratica ed appendere in classe o a casa. Questo manifesto, questa infografica si scarica gratuitamente dall'indirizzo che state leggendo in alto, quindi bit.ly bit.ly slash sbarra galateo internet, colore blu, scuola primaria, rosso, secondaria di primo grado, verde, secondaria di secondo grado, arancione per adulti e cittadini, quindi per tutti, blu intenso, il galateo per la DAD e la DDI. Così uniamo al tema che avete ascoltato prima, quello cioè della neutralità della rete e della ricerca attiva delle fonti, il tema della netiquette, il buon comportamento in rete. Cominciamo sin da ora a dire ai nostri ragazzi che i protagonisti della rete sono loro e siamo tutti noi. Così come una cosiddetta fake news si propaga perché qualcuno l'ha condivisa almeno la prima volta, ecco che un comportamento virtuoso in rete non può fare altro che propagarsi e costituire una catena virtuosa che renda internet un luogo più pulito e più sicuro per tutti. Questo esempio di lezione sulla cittadinanza digitale e sulla educazione civica lo lascio e lo cedo volentieri a voi con i miei cari saluti. Vi do sin d'ora appuntamento al prossimo videocorso ed ancora un grazie per la stima e l'affetto con cui mi seguite dal vostro Andrea Cartotto. Ciao!